Dalle aule dei tribunali ad un campo di calcio per astringere dei rapporti di amicizia ma anche per superarsi. Avvocati e magistrati sono scesi in campo per un amichevole sabato scorso, il campo da gioco, lo stadio Vincenzo Barone di Modica. A sfidarsi una rappresentanza dell'ordine degli avvocati di Ragusa e l'associazione nazionale magistrati. Si tratta della squadra ufficiale del distretto di Catania. 70 minuti di calcio giocato dove le due squadre non si sono risparmiate. L'idea di giocare un amichevole di calcio è partita proprio dai magistrati. Lo scopo dell'iniziativa è stata quella di staurare dei rapporti cordiali tra le due categorie divise dai ruoli nelle aule giudiziarie, consolidare legami e creare aggregazione al di fuori del tribunale. Il risultato è stato altalenante. A segnare la prima rete sono stati magistrati. Il risultato è stato in bilico con gli avvocati capaci di ribaltare sino al 3 a 2 a pochi minuti dalla fine. Il gol dei giudici poco prima del fischio finale dell'arbitro ha sancito il 3 a 3 finale. Un'esperienza piaciuta a tutti che sicuramente verrà ripetuta. L'idea infatti è quella di formare una squadra allargata che possa partecipare ad un torneo regionale. I presupposti ci sono tutti, la voglia non manca e neanche la volontà. E se in un'aula di tribunale campeggia la scritta, la legge uguale per tutti, in campo invece ha vinto la regola del divertiti e si sportivo.